Da mesi si continua a parlare della querelle legata alla presidenza della provincia di Cosenza. Da un lato Mario Chiuto, sindaco di Cosenza, che rivendica il posto di presidente che occupava prima della mozione di sfiducia e che a suo parere dovrebbe tornare ad occupare dopo la sua rielezione, secondo quanto riferisce lo statuto della provincia di Cosenza. Dall'altra Graziano Di Natale, che invece ritiene il primo cittadino Bruzio, è caduto alla carica. Una nuova pagina, ora la scritta del Tar. Il Tar, qualche settimana fa, infatti, occhiuto, aveva indetto le elezioni del Consiglio provinciale per il prossimo 23 ottobre, elezioni che riguardano il Consiglio e non la presidenza. Il Tar però ha accolto il ricorso presentato da un cittadino ed ha annullato il decreto con il quale il presidente della provincia di Cosenza aveva indetto le elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale. Dunque non si voterà il 23 ottobre, ma la vicenda potrebbe non finire qui.